Siamo vicini al Natale, salutiamo e ben ritrovato ad Alessandro Strucchi Ciao a tutti, buon Natale, auguri, ciao Sandro Senti Alessandro, che Natale è? Un po' di crisi c'è, però stiamo cercando di combatterla infatti tutti i giorni ci vestiamo un po' così proprio perché visto che c'è crisi la gente ha bisogno di ridere e chi viene qua cerchiamo di strappare almeno un sorriso Ti fai vedere le novità, le cosine carine? Sicuramente la novità più grossa di quest'anno è un'esclusiva Magic Games ovviamente il nostro babbo Natale meccanico Oddio che muove la pancia, ok Allora io mi diverto un pochettino con il telecomando vado avanti, vediamo cosa succede, basta che non faccia dei gestacci ecco così si gira Babbo Natale è educato Così si gira, così va avanti Riusciamo a farlo uscire dal sacco, vediamo Schiacciamo il pulsante Schiacciamo il pulsante, ecco è uscito Ora giriamo a sinistra Non mi venga verso di me, ecco vada verso l'operatore Babbo Natale vediamo Babbo Natale ballerino Ma perché forse ho schiacciato qualche tasto sbagliato Andiamo a scoprire chi è Oh, improvvisamente Lufino Eccolo qua Buonasera Buongiorno Ma io ho creduto per un attimo di poterti governare, sei ingovernabile 199 euro da governare, no 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 Facciamo gli auguri anche naturalmente Luca Buon anno, grazie a tutti, ciao Inversione Arcangelo Gabriele Certo con tanto di capelli biondi E fai i miracoli Ci provo Mentre non faccio la guardia e i remaggi nel cammino verso la grotta, lavoro la Magic Games Abbiamo i nostri animali che prendono vita e iniziano a ballare Vi presento l'elefante versione hip hop C'è il nostro cane che vi canta le canzoncine di Natale Questi qua sono ottime idee di regalo, da fare appunto ai bimbi O comunque anche alle persone adulte Sono cose molto carine e simpatiche È un articolo che va molto, soprattutto sotto le feste natalizie Poi il peluche è sempre una cosa molto carina e dolce Da regalare anche alla propria fidanzata Sì 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 Ci auguri a tutti quelli che ci stanno guardando A te, a tutti quelli del negozio, a tutti i clienti Salutiamo anche la Renna Salve, salva a tutti Dalla Magic Games Party a tutti i partiti per il calcio Buon Natale a tutti